Gli OSS, o meglio, gli operatori sociosanitari, sono figure indispensabili per soddisfare i bisogni primari della persona, sia in ambito sociale che sanitario. Gli OSS contribuiscono alla cura e all'assistenza della persona, favorendone il benessere e l'autonomia. In Regione Lombardia esiste già un elenco pubblico degli enti di formazione accreditati, ma manca un elenco regionale degli operatori sociosanitari disponibili. Con questo progetto di legge chiedo di istituire un elenco in forma telematica, consultabile da tutti i cittadini sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia. Con questo elenco tuteliamo la professione e il cittadino. Tutti potranno trovare un OSS e sapremo di quanti OSS ha bisogno Regione Lombardia. Grazie. Grazie.